Calcio Serie C, il Gubbio pronto al recupero di domani con il Fano per 90 minuti che valgono un intero campionato. Casiraghi indisponibile, pronto l'ex Cazzola, Sandriani in conferenza dice mi aspetto un Gubbio tosto. Volla e semifinale Super Lega, Sir Perugia a sapore il 2-0 ma poi crolla il tie-break sotto i colpi di Trento che impatta la Serie. Domani ostacolo russo per i Pierugini in Champions, sabato invece gara 3 contro Trento al Pallevangelisti. Buonasera per i trovati con l'informazione sportiva, la TRG calcio e palla volo in sommario. La Serie C in primo piano perché domani sera alle 20.30 il Gubbio è atteso al Mancini di Fano nel recupero contro Yamaranto in quella che potrebbe essere la partita più importante di questo scorcio finale di stagione. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica. Terza ultima il Gubbio ancora fuori dai play-out, penultimo il Fano che invece è in zona play-out. Risultato positivo significherebbe per il rosso-blu restare fuori dalla griglia play-out e tenere a distanza una diretta concorrente. In forte dubbio, anzi sarà esclusa la presenza di Casiraghi a causa del problema alla Caviglia che lo ha costretto a uscire anzitempo nel match col Teramo per il forfè del numero 10. La linea mediana sarà a 5 con Cazzola a destra, Pedrelli a sinistra, Valagussa, Malaccari, Mezzale, Ricci, Regista. In difesa davanti a Volpe, ballottaggio tra il rientrante Dierna e Fontanesi per affiancare Burzigotti e Piccini mentre in attacco torna Marchi al fianco di Ciccone. Vi ricordiamo che potrete seguire Fano Gubbio domani sera dalle 20.30 su RGM e Tredio e in contemporanea sul canale 604 del Digitale Terrestre. La gala sarà diretta da Federico Dionisi di L'Aquila ma sentiamo un brano della conferenza stampa di Sandriani oggi al Barbetti. Vigilia di Fano Gubbio, siamo con il tecnico della formazione rosso-blu Alessandro Sandriani. Allora probabilmente si dice forse sia bufa del termine la partita più importante della stagione però domani dà davvero l'impressione di essere una gara in cui fare il risultato farà veramente decisivo. La partita è importante sì, non è decisiva perché le ultime cinque tanto mettiamoci con testa che saranno decisive fino all'ultima partita e tutti avranno la stessa valenza. Normale affrontiamo una squadra in cattive acque come noi e quindi sarà una partita da giocare con i coltello fredenti e con tanto spirito di squadra. Con il Teramo si sono visti dei miglioramenti tangibili mi viene da dire soprattutto nel secondo tempo il Gubbio di fatto ha chiuso il Teramo nella propria area di rigore. Forse Alessandro è mancato un pochino più di cinismo in zona gol. Hai pensato a qualche alternativa, qualche variabile visto che si gioca a distanza ravvicinata tre partite per la gara di domani? Ma non lo so, la verità è che la rosa del Gubbio è una rosa di qualità, una rosa ampia. Avevamo assenze comunque importanti, non so se Casiraghi sarà recuperato però sicuramente chi scenderà in campo scenderà in campo con lo spirito diciamo che vogliono i tifosi sicuramente ma anche con lo spirito di chi ha un po' l'acqua alla gola e deve uscire da una situazione complicata. Che approccio psicologico ti aspetti nella partita di domani da parte dei tuoi ragazzi? Sicuramente faremo una partita tosta, questo è poco ma è sicuro quindi sarà una partita a viso aperto contro un avversario forte, allenato bene contro giocatori di categoria, giocatori che hanno rafforzato la rosa a gennaio sarà un bel derby, un bel derby cattivo, intenso come piacciono a noi. Ricordiamo che prima di Fano Gubbio si svolgeranno altri due recuperi sempre domani alle 16.30 in programma Feralpi-Salò-Ravenna altra gara che interessa una diretta concorrente del Rossoblu mentre alle 18.30 si gioca Vicenza-Fermana anche questa importante per la lotta salvezza visto che il Vicenza è ultimo a due punti del Rossoblu e domenica prossima saranno di scena proprio Rossoblu al Recchioni di Fermo Fermana che è fuori per ora dalla lotta salvezza ma potrebbe essere di nuovo trascinata dentro. Apriamo la pagina del volley con la Sir Perugia entrata nel momento decisivo della stagione con i play-off sia di Superlega e di Champions League nel giorno di Pasqua è arrivato però la doccia fredda dopo la vittoria in gara 1 contro Trento è arrivato il successo dei Trentini in una gara piena di rimorsi per la formazione di Bernardi che domani sera non ha tempo torna subito sul parquet del Pallevangelistima per la Champions League. Vediamo. Pasqua Mara per la Sirza Feticona Perugia che in gara 2 di semifinale play-off Superlega a domicilio di Diatec Trentino pregusti il 2-0 prima di essere recuperata e sorpassata al Typewreck con Trento che porta così la Serie in parità principalmente il rammarico è per il primo set con la Sir avanti 24-20 e capace di subire un clamoroso parziale negativo di 6-0 che dava il vantaggio ai padroni di casa buona poi la reazione dei bianconeri nella seconda e terza frazione ma dopo il quarto set chiuso ancora in volata dai Trentini il Typewreck è stato nettamente di marca Diatec che impatta così il computo sull'1-1 l'occasione del riscatto per i bianconeri si presenterà già domani sera per il match d'andata dei play-off 6 di Champions League contro i russi del Lokomotiv Novitsibirsk in programma alle 20.30 al Pallevangelisti poi sabato 7 scatterà l'ora di gara 3 dei play-off scudetto nuovamente al palazzetto di Pian di Massiano per la rivincita sul team Trentino Nell'economia della partita senza ombra di dubbio quel primo set lì visto l'esito finale del risultato ha pesato moltissimo perché voglio dire eravamo 24-19 se non sbaglio loro hanno fatto cambio palla 24-20 e abbiamo subito un parziale di 7-0 quindi sicuramente lì è stato un punto focale per l'esito finale poi dopo però eravamo rientrati avevamo vinto il secondo molto bene il terzo molto bene dopo siamo ripartiti male il quarto che l'avevamo ma prima anche di recuperarlo prima di impattarla sui 22 pari avevamo sprecato tante opportunità per fare punto per fare difese facili per ricostruire il nostro gioco ma niente questi sono i play-off adesso dobbiamo come io ho sempre detto bisogna essere molto bravi a gestire le vittorie come bisogna essere molto bravi a gestire le sconfitte adesso abbiamo un viaggio di ritorno dobbiamo cercare di recuperare il più possibile le energie per mercoledì che c'è una partita importante di Champions e poi sabato penseremo alla gara 3 delle semifinali e invece in A2 femminile di pallavolo la Bartocini Perugia nel pomeriggio di ieri si è aggiudicata il derby contro la Zambelli Orvieto e ha conquistato automaticamente la salvezza dopo quasi due ore di partita la scuola di Cocce Bovari è riuscita a spuntarla ad avere la meglio 3-2 contro le cugine Rupestri grande spettacolo di anzi al folto pubblico del Palevangelisti primo set perugino 25-22 poi Orvieto rimonta vincendo i due successivi parziali 25-13 25-22 ma Bartocini prima impatta conquistando il quarto 7-25-20 e poi vince il tie-break 15-11 ora l'ultima di regular season per le magliette nere attese domenica in Campania a domicilio della Baronissima ormai ininfluente ai fini della corsa salvezza chiudiamo con uno sguardo al basket la Serie 2 femminile perché Umberti riesce sconfitta dal match casalingo contro Bologna ma anche le umbertidesi hanno già ottenuto la salvezza matematica al termine di un match estremamente equilibrato deciso solo nel finale 68-64 per le Felsine top scorer del match la APV Biancazzurra Mandic con 20 punti 11 rimbalzi e 35 di valutazione le umbertidesi torneranno in campo sabato prossimo sul parquet della capolista Empoli poi dopo il turno di riposo mercoledì 18 aprile turno infrasettimanale alla Spezia si tornerà a giocare al Palamorandi domenica 22 aprile contro Alghero è tutto per l'informazione sportiva che torna in replica intorno alle mezzanotte 30 stasera e che domani ritroverete sul nostro sito trgmedia.it grazie per l'ascolto e buona serata grazie per l'ascolto